e salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video siamo sempre durante la samsung conferenza insomma sempre nella conferenza di samsung e è stato presentato o meglio sono stati divulgati alcuni dettagli sullo samsung home samsung home è uno speaker galaxy home scusatemi con bixby e 6 speaker all'interno e 8 microfoni questo speaker sarà presentato ufficialmente alla samsung developer conference che si tratta tra qualche mese dove verrà presentato ufficialmente questo speaker adesso ha fatto solamente hanno svelato solamente qualche dettaglio e niente noi ci rivediamo fra po' con un prossimo video sempre su samsung ovviamente l'altra sera è la serata di samsung meglio uno minuto pulsante interrompi pulsante avvia pulsante non si interrompe mai